La vendita è tutta una questione di ormoni, perché un cliente acquista quando nel suo corpo si crea un mix ormonale perfetto, un vero e proprio cocktail di neurotrasmettitori, che a loro volta sono i responsabili di decisioni e comportamenti. Come ti mostro nel manuale della Visual Academy che uscirà martedì prossimo, martedì 13 settembre, quindi la vendita è una questione ormonale. Infatti, se riesci a stimolare la giusta sequenza di ormoni, riuscirai a creare quel senso di desiderio del cliente nei confronti dei tuoi capi. Ma quali sono gli ormoni che devi stimolare per la vendita? Beh, ad esempio la serotonina. La serotonina è quell'ormone che crea il senso di fiducia nel cliente. E come fai a stimolare la produzione di serotonina? Attraverso un linguaggio tranquillo, fermo e pacato, un senso di professionalità che devi dare al cliente. Altra cosa molto importante, il tuo abbigliamento deve essere consono all'abbigliamento che vendi, proprio per stimolare nel cliente quel senso di coerenza che lo fa sentire fiducioso nei tuoi confronti. Ecco che conoscere tutti questi piccoli aspetti ti permette di incrementare le tue vendite. Ora, se vuoi conoscere tutti i dettagli sul manuale e il prezzo promo, ti invito a cliccare sul link in bio e a metterti in lista d'attesa. Ciao! Ciao!